Oltre alla possibilità di annidare un'intera struttura selettiva all'interno del ramo vero-falso di un'altra che la incorpora, c'è la possibilità di specificare condizioni strutturate complesse composte, come quella che vedete nel diagramma ora a video. Ho commentato il codice precedente e ho introdotto quello nuovo, straordinariamente più semplice, però meno preciso. Infatti è in grado di verificare se sono all'interno di questo intervallo 18-65, estremi esclusi, e mi dice che sono un adulto ancora in pensione, oppure questo else dice ok, non sei lì, però non mi sa dire se sono giovane o troppo avanti con l'età. Ecco perché il messaggio è più generico, non riesci a distinguere con precisione la situazione. Guarda, è falsa quella là, però non ti so dire se è perché è falsa la prima parte o se è perché è falsa la seconda. Ma se non ci interessa, tanto vale seguire questa strada più semplice. Oh, vediamo allora un po' più in dettaglio come deve essere intesa la semantica di un'istruzione, scusate, di una condizione che a questo punto non possiamo più considerare semplice, definire semplice, ma complessa, strutturata. Dunque, ho trovato un errorino qua che ho tagliato fuori, una graffa che invece è importante, così. Attenzione che sono due e-commerciali, ma siccome anche una singola e-commerciale ha un significato, però a livello di bit, è un errore pericoloso che va tenuto sotto controllo. Il risultato c'è, ma quasi sempre non corrisponde a quello che era il nostro intendimento. Per cui, occhio quando voglio connettere, dire quando è vera questa e contemporaneamente è vera quest'altra. Questa è la semantica dell'operatore e-connettivo logico and-e. La contemporaneità è vera, la condizione nella sua totalità, quando sono vere contemporaneamente tutte le condizioni più semplici che sono collegate dall'E. Perché qui potrebbe avere anche una terza ed una quarta senza problemi. E la condizione dell'if è nella sua globalità falsa, anche quando una sola delle due condizioni lo è. A maggior ragione fossero false, qualche volta non ha senso, perché non è possibile a volte, ma potrebbero essere anche entrambe false. Quando c'è in mezzo un end, il linguaggio Java, come molti linguaggi che hanno a loro base il linguaggio C, adotta una tecnica di valutazione della condizione chiamata short evaluation, che ha un duplice scopo di rendere più efficiente l'esecuzione e anche più sicura. In cosa consiste? Abbiamo detto che la condizione nella sua globalità è falsa, quando anche solo una delle condizioni semplici coinvolte lo è. Come dire, se hai già verificato che è falsa questa, è inutile andare a verificare quello che segue, magari 5 o 6 altre condizioni. Tanto il fatto che solo la prima, anche solo la prima, sia falsa, rende sicuramente, indipendentemente dal vero falso e tutte le altre, la condizione già falsa. Fermiamoci prima, short, valutazione breve. E questo è il vantaggio palese in termini di esecuzione, perché andare a valutare le altre condizioni porterebbe via tempo di esecuzione. E invece ci fermiamo prima, short evaluation. Ma, come dicevo, è anche una questione di sicurezza. Guardate qua cosa mi sono inventato. Ho aggiunto questo N, non ci interessa sapere perché e per come. Questa è la condizione. C'è un rischio nella sua valutazione, che è questo. Dividere per 0 manda in tilt l'esecuzione. Ma, la short evaluation ci salva. Avendo verificato prima la condizione che è necessaria per poter valutare la seconda in tranquillità, siamo a sicuro. Infatti, se N è diverso da 0, questa è vera, e allora per decidere se tutta è vera, dobbiamo andare a verificare anche le altre, e non c'è problema, perché quando arrivo qui, se sono qui, è perché N è diverso da 0. Se infatti lo è invece uguale a 0, questa darebbe subito falso, e il meccanismo della short evaluation andrebbe ad evitare tutto il resto, compresa questa pericolosa divisione per 0 che manderebbe in tilt l'esecuzione. Perciò, short evaluation uguale, migliori performance e più sicurezza. Quali altri operatori, oltre all'end, si possono utilizzare? Beh, c'è l'or e la negazione. L'or, vediamo un po'. Immaginiamo che vogliamo catturare invece, sempre riguardo alla fascia di età 18-65, proprio la situazione complementare. Mi interessa fare qualche cosa quando il soggetto non è in età lavorativa, quindi o è quando è giovane o quando supera una certa età. Situazione tipica, almeno di una volta, era, non so, il biglietto, il costo del biglietto per andare a vedere un film, per cui se eri al di sotto di una certa età entravi gratis, e se eri già in pensione, oltre a 65enne, pagavi o entravi gratis o con un forte sconto. Come esprimere allora il concetto di non sei all'interno di quell'intervallo? Così, e mi rendo conto che poi dovevo includere prima che il minore per il maggiore, ma sì, non è quello. Condizione con questo, sempre doppio carattere, uno è questo, l'altro è questo, è quel carattere, quel simbolo che si trova sul tasto sotto l'esca sinistra in alto. Il pipe, pipe, sarebbe di per sé il suo nome, barretta verticale. Anche qui attenzione, perché questo esiste, ma ha un altro significato. Il doppio ha il significato di connettivo logico OR. Se è vera questa condizione, OR, oppure è vera quest'altra. Ma a noi interessa, ok, ma quand'è che è vera e falsa tutta la condizione? La condizione è vera quando anche solo una di quelle collegate, legate, connesse con l'OR è vera. Quindi saltiamo in questa parte qua, nello sconto, quando anche solo questa è vera, o solo questa è vera. a maggior ragione, ma qua è impossibile evidentemente, anche quando tutte sono contemporaneamente vere. Qua è impossibile perché non può essere un numero, ed è un errore che mi fanno spessissimo, eh, molto di frequenti, ragazzi. Come fa un numero ad essere contemporaneamente, cioè vera questa, è più piccolo 18 e contemporaneamente più grande 65? O è di qua o è di là, non può essere contemporaneamente in due punti diversi dell'asse delle X, diciamo. E quand'è che è falsa? Quindi quand'è che viene eseguita la parte ELSE? Solo quando tutte le condizioni connesse con l'OR sono false. Perché abbiamo detto prima che basta una sola che sia vera, perché tutta è vera, e quindi l'unico caso di falsità è quando tutte le condizioni sono false contemporaneamente. Cioè ho 22 anni, quindi è vero che l'età 22 e me ho 18, no, e questa è falsa. È vera che l'età 22 è maggiore di 65, no, anche questa è falsa, non ce ne sono altre, tutte e due sono false, allora prezzo pieno. Anche per l'OR non c'è nessun problema ad aggiungere altre condizioni. La questione è più delicata, ma forse va un po' al di là del corso base, quando c'è un mix. Un po' di END e un po' di OR. Qui è importantissimo, almeno questo ve lo dico, valutare la priorità. Cioè se qua abbiamo un'altra condizione, prima è come se l'AND fosse la moltiplicazione e la divisione, verrebbe fatta prima lei. Quindi il risultato di questo AND verrebbe poi combinato con l'OR con la prima. Ok? Se invece si vuole che prima si vada a valutare l'OR tra queste due, dovete metterle in parentesi, come per le espressioni arimetiche. Allora, prima si fa l'OR e il vero-falso di questo viene confrontato col vero-falso dell'altra condizione. Allora, sinceramente per un bel pezzo non vi sconterrete con queste situazioni. Si possono fare tantissimi bei programmi dove i test sono quelli proprio di base, al massimo con un solo AND o solo OR. Rimane l'ultimo operatore, che è facile, 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 che è il NOT, la negazione, è il punto esclamativo. Nega la condizione che segue. Per cui, questa viene valutata, se fosse vera, allora il NOT la nega e diventa falso. Se invece la valutazione dell'espressione fosse falsa, allora NOT falso diventa true. E questo blocco verrebbe considerato true, e poi confrontato con il risultato di quello che esegue. A questo punto penso che l'esame della terza ed ultima struttura selettiva sia meglio affrontarlo nel prossimo video. Per questo direi che ce n'è a sufficienza. Alla prossima!